Appendice di altissimo livello per la ventunesima edizione del premio di saggistica Città delle Rose che ha visto la premiazione al Roseto degli Abruzzi del giornalista Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista italiana di Geopolitica Limes. Caracciolo è stato il vincitore del premio nella sezione dedicata agli autori italiani con il volume La pace è finita. Il noto giornalista per motivi personali non aveva potuto prendere parte alla cerimonia del premio che si era svolta lo scorso 30 settembre all'interno del frammenti Book Festival. Ma l'occasione è stata anche quella di approfondire con Caracciolo i temi di strettissima attualità come la delicata situazione mondiale che stiamo vivendo a causa dei conflitti. Mi fa davvero molto piacere, sono onorato di essere qui a Roseto. Un'occasione per parlare della situazione attuale nel mondo e sui riflessi che qui sto nel nostro paese che magari non cogliamo ancora ma temo ne avrà parecchi in futuro. Quello che dobbiamo credo considerare è che è finito quel periodo un po' magico cominciato dopo la seconda guerra mondiale in cui sotto una sorta di semiprotettorato americano e con il rapporto con l'Europa l'Italia si trova nella parte più sicura e relativamente ricca del mondo. Ma poi soprattutto se noi guardiamo adesso al di fuori delle nostre frontiere come è il mondo davvero c'è da considerare quanto siamo stati e quanto siamo ancora fortunati. Però per continuare a esserlo bisogna imparare anche a conoscere che cosa c'è intorno a noi, le minacce ma anche le opportunità. Caracciolo ha voluto anche rimarcare la gravità che i cittadini negli ultimi anni si sono di fatto allontanati dalla vita politica. In Italia, ma non solo in Italia, si è un po' perso il senso della politica. Una volta quando ero abbastanza più giovane esistevano ancora dei veri e propri partiti, adesso francamente non mi pare. Questa mancanza di un'organizzazione che era politica ma anche culturale si risente. Si risente nel rapporto tra la gente, nella società e anche in un certo degrado culturale che deriva anche da questa mancanza. Per l'amministrazione comunale e per tutta la città di Roseto è stato un onore aver ospitato Lucio Caracciolo che rappresenta uno dei massimi esperti di politica internazionale. La cittadinanza di Roseto che ha risposto per l'ennesima volta in maniera positiva a sete, a fame, a desiderio di cultura, di momenti di crescita come questo che abbiamo avuto il piacere di avere oggi. Grazie a chi da 21 anni porta avanti, quindi tutte le amministrazioni che si sono succedute, hanno portato avanti questo premio Città delle Rose, che rende onore alla nostra città in tutta la nazione e ci consente di avere personalità di questo calibro come il dottor Caracciolo. Quindi siamo veramente onorati, contenti e orgogliosi anche dei nostri cittadini che hanno partecipato con tanto piacere.